ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video questo è un mio amico e siamo qua da piccoltura boni perché lui acquisterà due nuclei e vuole iniziare con questa passione che gestirò le arnie che adesso prenderemo stiamo aspettando il camion arriverà tra un po come al solito c'è sempre da aspettare e così niente ok ragazzi ci siamo quasi siamo in macchina nel retro del negozio e stiamo stanno per consegnarci nuclei e ci sarà da divertirsi un amico abbastanza casato ce la faremo anche noi ad avere i nostri nuclei ok ragazzi stiamo cercando di capire un po l'organizzazione perché non c'è non c'è molto ordina dici che è self service ok ci siamo no io la metterei una nel baule una qua dietro nel sedile meglio mettere attaccato così si di fronte è esatto più almeno stanno unite come come ritenete meglio perché così per l'oscillazione almeno si devono oscillare anche di là liberi allora metti tutta una baule una così se mi riescono i tipi che mi fungono tratta e ti mangio vivo metti la tuta e sei a posto ah no perché me li ha dati a me per il figlio mi ha dati a lui è stato tu? a posto qui le cassette alla sventa buono perfetto? si hai già pagato? ok si mette lì qualcosa? grazie 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 sono arrivata lì quindi state tranquille si? posso? grazie ciao si non è più aperto è più aperto grazie grazie siamo carichi di armi fermate un attimo che ti metti la tuta se vuoi oh ma sti polistiroli devi dare indietro si ah eh perché sono nuovi bellissimi eh guardate ragazzi c'è un odore di arnia ok ragazzi nuclei presi ci vediamo tra poco quando avremo finito i 40 minuti di strada per tornare al mio apiario e dopo faremo tutti i saluti e la roba di iscriversi al canale quelle robe lì le lasciamo per dopo ah guardate qua c'è un odore il mio amico ci ha comprato il cappellino da Ronaldinho bella ragazzi iscrivetevi vi faccio vedere ancora un po' è troppo bello ok ragazzi ci siamo abbiamo portato i nuclei in postazione sono le 9 di sera e perciò le apriamo come vedete hanno la rete siccome è un po' tardi e rischieremo di fare un po' di casino ho deciso di lasciarli lassù e ci appoggeremo sopra i coperchi al contrario in questo modo dato che si adattano perfettamente alla cornice sotto perciò non è un problema dopo gli mettiamo sui coperchi in lamiera esatto giù non c'è neanche bisogno di un sasso perché sono perfetti ok e i nuclei fatti adesso li apriamo grande momento l'eccitazione è tanta ok sfilarlo veloce fai subito l'altro ok non c'è tanto volo perché adesso sono calme e tardi ed eccole qua i nuclei sono su 5 telaini e signori abbiamo finito ok ragazzi abbiamo finito è tardi ricordatevi di iscrivervi al canale commentate se avete qualcosa da dire e ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi